Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Quest'oggi parleremo di rotoscoping, vale a dire una tecnica utilizzata in computer grafica o in generale, soprattutto in After Effects, ma in qualunque software di grafica avanzato, per sostanzialmente scontornare uno o più elementi da un'immagine. L'arte dello scontornare è il rotoscoping. Che cosa vuol dire scontornare? Vuol dire partire da qualcosa simile a questa e disegnare una maschera intorno a un soggetto, in questo caso questo signore che passeggia, per isolarlo rispetto allo sfondo. È un po' come andare in Photoshop e rimuovere lo sfondo, solo che lo facciamo su un file, su un elemento in movimento e quindi un file video in questo caso. Il rotoscoping, fare rotoscoping è una cosa che può essere noiosissima e può richiedere molto tempo. In passato per scontornare un elemento in After Effects bisognava utilizzare una tecnica classica, come per esempio le maschere. Quindi si prendeva un fotogramma, per esempio questo. Andiamo a ridimensionare. Ecco qua, si prendeva un fotogramma, si andava a prendere la penna, sostanzialmente, eccola qui, e si andava a disegnare una maschera intorno al soggetto che si voleva in qualche modo isolare dallo sfondo. Come potete immaginare è un procedimento lungo, noioso e che richiede molta pazienza. Molte persone adorano fare il rotoscoping o isolare gli elementi perché lo considerano qualcosa di veramente molto rilassante. Chi parla non la pensa altrettanto, allo stesso modo, infatti adesso lo sto facendo veramente molto male, solo per darvi un'idea di quanto possa essere lungo e complesso, fare un buon rotoscoping intorno ad elementi, anche complessi come in questo caso dove la scarpa, per esempio, come potete vedere si confonde un po' con il terreno. Lo sto facendo malissimo, eh? Come potete immaginare è una tecnica che richiede una certa precisione, molta pazienza, molto tempo. Ok, andiamo avanti. Male in questo caso. Ok. Lo sto facendo in maniera veramente molto veloce, eh? Quindi chi sta guardando non mi giudichi per questo lavoro. Solo per dare un'idea di quanto fare del rotoscoping con le maschere, ecco, possa essere veramente, eh, ok. Lungo e tedioso. Mi fermo qui per il momento. Qual è lo scopo? Lo scopo chiaramente è isolare questo, eh, questo, questo soggetto dal nostro frame. Qual è il problema? Il problema è che al frame successivo la persona si muove al frame precedente e quindi occorre modificare i punti della maschera per far seguire i movimenti in maniera precisa e questo va fatto frame per frame. Questa è la tecnica classica del rotoscoping con le maschere in After Effects. Come potete immaginare è qualcosa di lungo, per alcuni versi noioso, anche se, ripeto, c'è chi ci prova a piacere. Ecco, questo è il masochismo di chi, eh, di fa questo, di chi fa questo mestiere. La buona notizia è che After Effects si è evoluto, così come adobe ed ha introdotto l'intelligenza artificiale, vale a dire una tecnologia che ci permette di automatizzare un po' questa operazione. L'intelligenza artificiale di Sensei di Adobe After Effects riesce ad analizzare i fotogrammi e i singoli pixel che compongono un'immagine e disegnare al posto nostro la maschera, ok? Frame per frame, facendoci risparmiare molto tempo ed è in questo modo che sono riuscito ad isolare questo soggetto e a farlo muovere, ok? In un ambiente finto come può essere questo sfondo affrattale. Oh, attenzione, la tecnica che vi sto per illustrare è utile per velocizzare ma non è precisa al cento per cento. Guardate per esempio questo fotogramma. Come potete vedere qui la maschera non è perfetta e andrebbe rifinita, però potete immaginare bene che un conto è rifinire qualcosa, un conto è farla totalmente da zero e impiegando veramente molto molto tempo. Come funziona il rotoscoping in After Effects? Beh, il rotoscoping automatico in After Effects? Beh, innanzitutto dovete creare una nuova composizione e attenti che la composizione che andate a creare deve avere lo stesso frame rate del video su cui volete applicare il rotoscoping. Quindi questo video è stato girato a 50 fotogrammi al secondo, quindi voi dovete creare una sequenza o meglio una composizione che lavori a 50 fotogrammi al secondo. Un modo per creare automaticamente una composizione partendo dalle caratteristiche di un video che fa il video è trascinare il video su questo bottoncino qui. Olè! Automaticamente ci viene creata una composizione che ha le caratteristiche identiche al video che stiamo, su cui stiamo lavorando. Perfetto! Scegliamo un punto di partenza da dove iniziare a fare del buon rotoscoping. Chiaramente questa tecnica funziona molto bene sulle immagini ben contrastate. Vi faccio un esempio. Quando questo soggetto passa in questo punto, ok? Come potete vedere nero su nero, questo punto può creare confusione al rotoscoping automatico. Lo vedremo tra un secondo. Quindi il mio consiglio è iniziate da un fotogramma che sia chiaro, ok? E che sia relativamente semplice da lavorare. Facciamo finta che ci vada bene questo fotogramma. Per attivare la funzione di rotoscoping automatico dovete utilizzare questo... Innanzitutto dovete cliccare due volte sopra il livello che ospita il video. In questo modo potete accedere a questa finestra che sostanzialmente ha gli strumenti che ci servono per il rotoscoping automatico. Quindi questa è la nostra composizione. Doppio clic sopra il livello che ospita il nostro video e accediamo alla finestra appunto che ha gli strumenti per il rotoscoping. In alto, a sinistra, troverete questo bottoncino con un omino e una penna sostanzialmente. Questo è il simbolo del rotoscoping. Anche la didascalia ci aiuta spiegandoci appunto che questo è lo strumento pennello a rotoscopio. Ok, le traduzioni in italiano sono sempre molto approssimative devo dire. Clicchiamo sopra il pennello e abbiamo a che fare con un pennello vero e proprio. Vi dico subito che con il tasto control potete ingrandire o rimpicciolire il nostro strumento. Chiaramente tasto control sulla tastiera e muovete il mouse cliccando con il tasto sinistro del mouse. Scegliete per iniziare a una dimensione appropriata. Di default quando andremo a pennellare vedete che c'è una più, è un cerchietto verde, vuol dire che noi andiamo ad aggiungere una maschera sostanzialmente di rotoscoping. Se però premessimo il tasto alt sulla tastiera vedete che il cerchietto diventa rosso e al centro abbiamo il simbolo del meno. Vuol dire che andiamo a rimuovere la maschera. Vi sarà tutto chiaro tra un secondo. Iniziamo a tracciare a grandi linee la nostra maschera di rotoscoping. Quindi io vado ad indicare al software qual è la porzione di immagine che io voglio inserire nella mia maschera di rotoscoping. Vi informo che sì stiamo semplificando tantissimo ma anche qui serve abbastanza precisione. Se lavorate con una penna grafica o una tavoletta grafica è molto meglio perché potete essere più precisi anche di quanto sto facendo io. Possiamo ritenerci soddisfatti, rilasciamo il mouse e vedete che quello che vi dicevo prima, After Effects un po' si confonde perché prende degli elementi che non ci interessano molto, per esempio questi sullo sfondo. Nessuna paura, vedete che qui la maschera sborda e rientra e premiamo il tasto alt sulla tastiera e andiamo a rimuovere questa porzione di immagine dalla nostra maschera. Non serve farla ovunque, basta farla a tratti. Vedete che già tutto inizia a prendere una forma diversa. In questo punto andiamo a rimpicciolire il nostro strumento e indichiamo che questa porzione di immagine non deve cadere all'interno della nostra maschera e vedete che automaticamente un pochettino il nostro contorno inizia ad essere migliore. Anche qui serve un po' di pazienza, ora lo farò velocemente solo per mostrarvi un po' come funziona la tecnica, però immaginate quanto questo lavoro sia molto più veloce rispetto al classico rotoscoping con la maschera. Anche qui, ripeto, l'immagine, soprattutto quando non è molto a fuoco, non aiuta. Io qui voglio rimuovere la bottiglietta d'acqua, quindi passo qui. Ok, questo lo voglio rimuovere. Vediamo come va. Ok, non è preciso al 100%. Se sbagliate e volete aggiungere un po' di frame, nessun problema. Un po' di frame, un po' di pixel, nessun problema. Basta passare allo strumento aggiungi maschera non premendo nessun tasto e andiamo a riportare questi elementi dentro la nostra maschera di rotoscoping. Anche qui andiamo ad indicare ad After Effects che questo si è escluso dalla nostra maschera di rotoscoping. Ok, vedete che ricominciamo a portare tutto nella condizione corretta. Ok, ci vuole un po' di pazienza, lo so, però come potete vedere stiamo semplificando molto questo processo di rotoscoping. Ok, quindi la creazione della maschera con il pennello di After Effects è molto più veloce rispetto a tracciare i singoli punti uno per uno. Anche qua andiamo a dire che questa parte di immagine non deve ricadere all'interno della nostra maschera, deve essere esclusa. Ok, attenzione ai punti qui in basso. Grosso modo, vedete, adesso lo sto facendo veramente rapidamente per mostrarvelo, ma potete e dovete perderci un pochettino più di tempo. Grosso modo, vedete che ho disegnato una maschera, ecco qua, che va in qualche modo a disolare il nostro personaggio. Qui in basso avete dei bottoncini che ci permettono di previsualizzare un po' quello che stiamo facendo. Ok, questa è proprio la visualizzazione della maschera. potete scegliere di cambiare il colore alla maschera, ok? Potete farla per esempio, non so, se vi piace verde. Ecco qui e già potete vedere che il lavoro è buono, anche se non è ottimo. Qui la maschera un pochettino esce e potete andarla a correggere, ok, per farla il più precisa possibile. Avete chiaramente anche la possibilità di tornare indietro con questo bottoncino. Il secondo qui vi fa vedere la maschera e mentre il terzo vi fa vedere la maschera nel suo insieme. Il primo invece ci permette di vedere, il primo bottone ci permette di vedere com'è l'immagine scontornata, ok? Quindi il primo bottone è l'immagine come verrà, quindi scontornata il soggetto isolato. Il secondo bottoncino qui ci fa vedere la maschera di rotoscoping vera e propria e il terzo ci mostra la maschera con colori contrastati. Ok, e voi direte vabbè è ok e adesso dobbiamo fare questo lavoro frame per frame? No, assolutamente no, perché a questo punto potete tranquillamente premere la barra spaziatrice e pazientare un pochettino e vedete come After Effects lavori per voi. Ecco quello che vi dicevo, attenzione perché chiaramente ci sono dei passaggi in cui la maschera magari non è precisa al 100%. Se notate dei punti in cui la maschera non è precisa al 100% potete fermare per esempio qui e andare a correggere a mano, ok? Questo deve essere. Escluso, escluso, ecco qui. E ripremiamo la barra spaziatrice. After Effects continua a elaborare e se torniamo alla nostra composizione vedrete che il nostro soggetto è stato più o meno scontornato. possiamo fare di meglio? Sì, esistono delle opzioni. Chiaramente il pennello di rotoscoping tutto sommato altro non è che un effetto. Quindi se andate nella composizione tra gli effetti trovate il pennello di rotoscoping. Aprendo le impostazioni del pennello di rotoscoping troverete per esempio la qualità. Potete scegliere tra standard e migliore. Vi consiglio di partire da standard perché la qualità migliore richiede molte più risorse per il calcolo dei frame anche se forse è un pochettino più precisa. E le impostazioni di propagazione ovvero come si propaga la maschera frame dopo frame, ok? Quindi il raggio di ricerca che è impostato a 30 pixel potete aumentarlo o diminuirlo in base per esempio alla velocità a cui si muove il soggetto a cui state applicando rotoscoping. Scendendo però c'è un'altra cosa molto utile che sono le maschere del pennello rotoscoping. Perché è utile? Perché qui abbiamo la possibilità di sfumare la nostra maschera di rotoscoping. Ora di default è a 5 come valore. Proviamo a portarlo a 30 e vediamo che cosa succede. I bordi dovrebbero essere leggermente più sfumati rispetto a come erano poc'anzi. Vedete questo è un fotogramma non proprio perfetto. Ecco se vi accorgete che questo fotogramma non vi soddisfa al cento per cento basta tornare nella modalità di rotoscoping e sistemare la maschera manualmente, ok? Ribadisco un controllo manuale è sempre utile, è sempre necessario. Però come potete immaginare è sicuramente un procedimento molto più rapido rispetto al fare tutto a mano, ok? Quindi io questo pezzettino qui per esempio non lo voglio della mia maschera. Vediamo se riesco a eliminarlo. No, ok. Mi vuole un po' di pazienza. Ok. Per qualche strano motivo non mi viene... Ok. Non mi viene inglobato. Bisogna avere un po' di pazienza. Modificare magari la dimensione del pennello. Ecco qui. Vediamo se riusciamo a escludere. No. E vabbè. Ok. Chiaramente qual è il problema qui? Che io ho impostato una sfumatura a 50 pixel di valore. Se imposto tutto in valori normali probabilmente riesco ecco esagerare con la sfumatura magari dei bordi non è una buona idea perché rischiamo di mostrare un po' lo sfondo. Infatti ecco il problema era proprio la sfumatura che era esagerata. Però tra le impostazioni utili da tenere in considerazione abbiamo la possibilità di spostare il bordo. Ok? Spostando il bordo possiamo in qualche modo contrarre la maschera. Vedete? Ora esagero. La sto allargando. La posso ridurre. Anche qui non esagerate troppo altrimenti l'immagine viene troppo, come si dice in gergo, mangiata. Però ecco ridurre un pochettino la maschera ci permette magari di eliminare qualche imperfezione della nostra maschera stessa. Qui il braccio chiaramente troncato. Questo non va bene. Bisognerà andare qui e aggiungerlo alla nostra selezione. Ok. E adesso è un pochettino meglio. Chiaramente a questo punto avete un'immagine con un canale alfa. Quindi se io vado a vedere la scacchiera che ci mostra le parti trasparenti dell'immagine vedrò chiaramente che lo sfondo, come si dice anche qui in gergo, è bucato. Ok? Ecco qua. E io posso andare ad inserire sullo sfondo quello che voglio. Per esempio posso creare una tinta unita di colore qualsiasi. Ok. La posiziono sotto ed ecco che il soggetto è sopra ad uno sfondo fantasia. Chiaramente se avete un green screen tutto questo ve lo risparmiate. Però ci sono delle situazioni in cui magari il green screen non è presente e avete comunque necessità di fare del rotoscoping a mano per altre tecniche che lo richiedono. Ok? Ora non ci dilunghiamo ulteriormente su questo aspetto. Sappiate però chiaramente che quello che noi stiamo facendo adesso, ovvero isolare un elemento, è molto più semplice se chiaramente lavorassimo con un green screen. Però se stiamo lavorando con il rotoscoping probabilmente il nostro green screen non lo abbiamo. O c'è un qualche motivo che ci impedisce di utilizzarlo. Posso chiaramente prendere un'altra immagine, posizionarla al di sotto e il nostro soggetto, ecco, ora non ha le ombre corrette però è inserito in una in una nuova sequenza. Quindi può passeggiare beatamente mentre quest'altro ragazzo gioca con con qualche liquido colorato. Ok? Questo è il rotoscoping in After Effects. Spero vi sia piaciuta questa questa lezione. Ovviamente di questo e molto altro parleremo tra qualche settimana quando sarà pronto il corso avanzato di After Effects in cui affronteremo meglio ancora questo concetto del creare la trasparenza che è importantissimo quando lavorate con un software di grafica animata come After Effects e torneremo a parlare anche di maschere e torneremo a parlare di rotoscoping. Nel frattempo su questo canale YouTube è presente il corso base introduttivo ad After Effects. Se non sapete utilizzarlo e se non l'avete mai utilizzato cercate in questo canale la playlist del corso introduttivo ad After Effects, così come c'è il corso introduttivo per esempio a Premiere Pro. Grazie mille, condividete questo video con i vostri amici, mettete un like, cercatemi su Facebook, sono Fabio Ambrosi, cercatemi anche su Instagram, iscrivetevi a questo canale YouTube mi raccomando e accendete le notifiche per essere informati quando usciranno nuovi video. Grazie e buon proseguimento, ciao!